Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video unboxing. Due cose prima di iniziare, se mi seguite da un po' già le sapete, ma le ripeterò magari per quelle persone che mi conoscono solo ora. La prima è che a me i Funko Pop piacciono abbastanza, ma non li colleziono per motivi di spazio, visto che le action figure mi occupano già tutta la cameretta e di conseguenza prima o poi finirò fuori casa. La seconda invece è che Crash Team Racing è uno dei miei giochi preferiti fin da quando ero bambino, ve l'ho anche detto nel video dell'altro giorno. Ecco perché quando ieri mi sono recato a GameStop ho visto questa determinata cosa, che poi è scritta anche nel titolo, quindi non è tanto una sorpresa, e ho dovuto comprarla. Più che comprarla me l'ha regalata Mariana per una scommessa persa, quindi sono contento di aver sborsato il nulla cosmico. Detto questo, possiamo cominciare col nostro unboxing perché non vedo l'ora di vederlo, dato che ancora non l'ho tirato fuori dalla sua scatola. Ma prima di iniziare, ovviamente, come sempre, via con la sigla. Finalmente, era la quinta volta che registra il vostro pezzo perché non so parlare. Ma cosa andremo ad unboxare oggi? Oggi andremo ad unboxare il fantastico pop di Crash sul kart ispirato appunto da Crash Team Racing. Guardate quanto è bello e soprattutto grande. Non vedevo l'ora uscisse perché l'avevo visto su Instagram, nella pagina di Funko Pop o comunque di qualche pagina dedicata a questo franchise. E ho detto fin da subito che doveva essere mio, in quanto Crash Team Racing è uno dei miei giochi preferiti. Poi sembra davvero, davvero fatto bene. Vi troverò un bellissimo posto nella mia libreria, ma un tale che possa essere in bella vista. Qua potete ammirare la sua faccia con la lingua di fuori. Molto carino Crash. E dietro c'è un disegno appunto della Funko Pop. Sembra davvero figo, ma senza indugi. Incominciamo con l'unboxing. Eccoci qui nella nostra postazione unboxing, dove ora andremo ad unboxare il nostro fantastico Crash Bandicoot in versione Crash Team Racing di Trophy World, perché appunto è il remake del gioco uscito nel 1999 sul PS1, sviluppato da Naughty Dog. Ora quindi possiamo andare ad aprire questo fantastico pop. L'abbiamo tirato fuori dalla sua fantastica scatola. Non vedo l'ora di tirarlo fuori anche da questa specie di plastica che lo circonda, perché sembra davvero bello. Ora ve lo faccio vedere un pochino. Guardate quanto è carino, sembra davvero fatto bene. Soprattutto il kart, sembra fatto divinamente. Se evito di non distruggerlo, però mi faccio un favore da solo. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. È davvero molto molto figo. Molto molto figo, guardate i dettagli anche del kart, fatti molto bene. Guardate che bello anche Crash con la sua faccia da pazzo. Molto molto simpatico. Ora però ve lo andrò a mostrare in modo tale che possiate apprezzare questo pop in tutto il suo splendore. Grazie a tutti. Che dire, un acquisto davvero con i fiocchi è davvero fantastico. Come ho detto prima, ora cercherò un bel posto dove metterlo all'interno della libreria in modo tale che possa essere in bella vista. In modo tale che la gente che entra in casa mia me lo possa invidiare. Quindi, ringraziamo Marianna. Il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete i video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare i link per i miei social, Instagram e Facebook. Passate numerosi perché pubblico aggiornamenti sul canale. E qualche sprazzo, o come si dice, di vita privata. Detto questo vi invito ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!